Il Consiglio della Società delle Nazioni punisce l'Italia per l'invasione dell'Ethiopra. Nei confronti del paese aggressore vengono approvate alcune sanzioni restrittive di carattere economico-finanziario. E il giorno dopo vengono approvati tre provvedimenti di vieto di importazione dall'Italia, di esportazione verso l'Italia di materie prime e di alcuni prodotti chiave, misure di mutuo appoggio fra gli stati sanzionisti. Grazie per la visione!